Dieci anni dopo, tanti ne sono trascorsi dall'ultima volta di Nicola Strambelli nel campionato di eccellenza. Una dimensione che il fantasista barese tornerà a vivere in attesa di novità in merito al capitolo ripescaggio in serie D con la maglia del Barletta. La notizia dell'accordo e della firma con il club del neopresidente Marco Arturo Romano, nota da settimane, è diventata realtà nel sabato che apre le porte alla festa patronale nella città della disfida. E quale miglior ciliegina su un weekend così sentito a Barletta dei distillati di classe di un numero 10 che ha disegnato calcio negli ultimi anni sui campi di C e D con Lecco, Regina, Rezzo, Molfetta, Cerignola, Casarano e appunto Fidelisandria. Proprio in biancazzurro ha giocato per l'ultima volta in carriera nella Premier League pugliese. Stagione 2013-14, 6 gol e diversi assist in 20 presenze con firma sulla promozione della squadra all'epoca allenata da Nicola Ragno, scese in eccellenza 12 mesi prima dopo l'elettrocessione nello spareggio con il Barletta e il successivo fallimento societario. Ora Barletta corrisponde al presente del classe 88 originario di Bari. L'AIP che si è venuta a creare sulla sua firma, soprattutto dopo la conferma dello stato avanzato della trattativa ai microfoni di Telesveva a inizio mese, ha avuto pochi precedenti nel recente passato bianco-rosso. È stato fatto tutto in poco tempo perché il Presidente voleva chiudere questa trattativa il prima possibile. Terzo rinforzo ufficiale di stagione dopo Bottalico e Turitto. Presto Strambelli avrà altri ex compagni di squadra al suo fianco, dalla Vopa già incrociato ad Andrea e Molfetta a Giambuzzi che ha beneficiato spesso del re dei assist del girone H di Serie D ben 18 nella scorsa stagione, mettendo a referto otto reti nell'ultimo campionato con la Fidelis. I due hanno già firmato con il Barletta la pari di Peppe Lopez per il quale manca solo l'ufficialità, Gianni Montrone, Kevin Cassano, Michele Laraspata, Lander Giuseppe Giannini e il confermato Andrea Lobosco. L'inizio della prossima settimana dovrebbe rappresentare invece il momento giusto per definire gli arrivi di Alex Benvenga in difesa e Alessandro Scialpi a centrocampo e tentare l'affondo definitivo per il centravanti Marco Puntoriere l'anno scorso alla Palmese. Parallelamente si affinerà il fronte under con 4-5 profili pronti tra conferme e innesti, una roadmap serrata in vista del ritiro che si terrà in città. Sullo sfondo c'è la partita ripescaggio, il Barletta fa parte degli 11 club ammessi in graduatoria e già sei società Rotonda, Rieti, Montebelluna, Olbia, Alessandri e Chieti sono certe di non partecipare al prossimo campionato di D o in bilico per capirne qualcosa in più sul tema. Occorrerà però attendere almeno il 25 luglio.